Ogni anno vengono acquistate miliardi di viti Taptight in tutto il mondo. Sin dalla loro introduzione, le viti Taptight hanno ridotto significativamente i costi di assemblaggio nel settore automobilistico e dunque sono state adottate in svariate applicazioni. Il modello più recente è la vite Taptight Pro. Le viti Taptight Pro, caratterizzate dalle sezioni incrociate brevettate Trilobular, operano con un'azione autoformante efficace nei vari metalli, con un eccellente mantenimento della bullonatura. Le viti Taptight Pro hanno un'esclusiva filettatura parabolica che riduce lo spostamento del materiale nel dado. La rottura della vite è la modalità preferita in caso di funzionamento anomalo delle giunzioni standard. Quando le viti Taptight Pro fossero inadvertitamente state serrate eccessivamente, si romperebbero. La vite rotta potrebbe essere facilmente rimossa, preservando la struttura sulla quale era stata fissata. Normalmente, le viti autoformanti hanno bisogno di una maggiore lunghezza di avvitamento per rompersi, se confrontate con viti di resistenza equivalente. Le viti Taptight Pro raggiungono questo obiettivo con lunghezze di avvitamento standard, allo stesso modo con cui le viti normali evitano la spanatura di un dado. Le viti Taptight Pro comprendono una serie di modelli di viti autoformanti, progettate per eliminare i costi delle procedure di filettatura, delle rondelle, delle vernici frenafiletti e la necessità di ricorrere a un dado prefilettato e a un dado, riducendo i costi di assemblaggio. Le viti Taptight sono usate da molti produttori globali di automobili e camion. Grazie all'utilizzo dei prodotti Taptight in varie applicazioni, tutti questi produttori hanno ridotto i loro costi di assemblaggio ed eliminato i problemi generati dall'utilizzo delle viti a profilo metrico. Il gruppo motopropulsore include vari componenti in cui sono stati usati i prodotti Taptight. I produttori hanno usato i prodotti Taptight per assemblare i componenti nelle parti esterne e interne dei motori in alluminio. Le viti Taptight sono state usate per assemblare gli alloggiamenti in alluminio pressofuso delle Power Transfer Unit, PTU. Gli interni di auto e camion offrono varie opportunità per usare le viti Taptight, per fissare le cinture di sicurezza, per assemblare i sedili, altri componenti come i cruscotti. Le viti Taptight sono largamente usate nei veicoli moderni, offrono vantaggi anche per la progettazione dei veicoli futuri. Le viti Taptight offrono un contatto metallo-metallo nel dado, mentre la filettatura interna è formata. Una giunzione con viti Taptight Pro offre una messa a terra più efficace per i veicoli elettrici. Questo accade anche per le giunzioni di messa a terra nei veicoli a combustione interna.